2 Ciliano si sale piano piano 2 Ciliano e andremo sempre più lontano e allora voglio di nuovo sentire l'applauso per la Resident Console Double Seed DJ l'orso pazzo e in questo momento voglio veramente vedere tutti quanti voi tutto in sound sotto la console tutti sotto la console perché il momento è veramente magico mi raccomando sotto gli escalini però sotto la console altrimenti la sicurezza si incazza, gli girano i primi giorni dell'anno tutti con le mani verso il cielo, tutti con le mani su io mi ricordo quest'estate era l'Energy Street Parade da In Sound sono partiti i Pullman per andare a questa Street Parade questo evento mondiale che racchiude tutti gli amanti della musica chi la fa chi solamente la ascolta, chi la vuol ballare e mi ricordo uno speciale momento eravamo sotto il palco della Q Dance e ha iniziato a suonare lui in sound ho il piacere e l'onore di presentare a tutti voi per la prima volta su questa console le mani al cielo per TACBOBOY e chi c'era sotto il palco Q Dance se lo ricorderà io me lo ricordo e ho ancora la pelle d'oca un benvenuto su questa console Analogic by e Tecno by piano piano e 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 Grazie a tutti. 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 Prova a tutti. Prova a vedere se una Befana vola. Sicuramente vedrai volare la sua musica. Per la sua musica. Per la sua musica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Marco Demolition. Marco Demolition. Marco Demolition. le mani in sound. Le mani in sound. Le mani in sound. guardate a tutti. Guarda dentro me. Guarda dentro me. le mani in sound. Ehi. Le mani in sound. Ehi. Sì sempre più su Cagno by DJ E.M.S.O. 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 E.M.S. E.M.S.O. E.M.S. 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 Buonanotte al numero uno, l'italiano in Olanda. E.M.S. E.M.S. verso il cielo per il cambio in console. Gli ragazzi continuano a ringraziare la musica e Tecno Boy DJ. Questo vuol dire veramente avere la musica nel cuore, essere e pensare a Hard Style. E ho il piacere, dopo aver... salutato e ringraziato Tecno Boy ho il piacere di presentare di nuovo la Resident Console è una magica sorpresa in sound, con le mani verso il cielo dobbiamo dare il benvenuto a due amici speciali il primo lo conoscete molto bene è il nostro dottore, dottor Zodda DJ le mani al cielo due il secondo conoscete bene anche lui, immagino ho il piacere di lasciare lo scettro musicale ovvero sia il microfono a un amico a un fratello della note in sound da questo momento in poi la console sarà dottor Zodda DJ e Go Go 3 eeeh eeeh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.